Il BATLAX R10 Si calda velocemente e ti permette di dare subito il massimo in pista e il grip è fenomenale in tutte le condizioni dell'asfalto. Provando l'R10 si vede subito che ha un inserimento veloce e preciso e un ottimo grip in uscita di curva. Il BATLAX R10 è aggressivo e affidabile in pista, mica come me.